l'ecrano parte lì ma l'ecrano Grazie. 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 Eccellem. Grazie. Grazie. Ok, questo è lovändo. Vedete una piccola piccola. cri scrivete N ed everything which isborg. E abbiamo una colonna che dice il coraggio di vaccinated su come shhh. questo ci sono altre opzioni in cui mettere l'avancemento del nostro cliente ho la possibilità di usare un fischio Excel di usare tutto l'avancemento del nostro cliente questo è un ambiente Excel, non un ambiente logistico ma un ambiente Excel e il grande livello il grande livello è il conto del cliente in cui mettere la condizione 701.006 il conto del cliente ora mi piace la presentazione ma non mi piace per il cliente in cui mettere la condizione con il cliente il nostro cliente in questo momento faccio il cliente default. E' aggiungo il nostro conto. E' aggiungo il grande libro. D'accord? E' aggiungo un'altra cosa. Inizia il lien. Inizia il lien. Il è beno. Il sistema. E' chasmolo. Il sistema. Se si è iniziato a fare collaboratori. La sessione. Il client. il cliente, l'exercice e il conto. Qui ha raggiornato il sommario, ciò che si chiama il lien hypertexto. Qui ha raggiornato il collaboratore che le feuille di lavoro sono automaticamente generato, quindi rapidamente il può entamare le dirigente, le recopere, le verificazione. Quindi si chiama il banniere, la legenda di validazione. Quindi si chiama il banniere con delle colori, con delle symboli. Per fare una standardizzazione, le symboli di validazione, quindi si mettono una volta in il cabine e poi si mettono il collaboratore direttamente li qui al verificazione corrispondante e aggiungo il logo d'accord? beh Questa è la fission section, la fission section è una cosa che mi piace per ciclo, non per ciclo per ciclo, per esempio, mi fissioni due classi, due fichiers e poi si mettono qui ci 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 mettono e quando si mettono il sommare e il grande livre, ci mettono e poi si mettono la fission con la camera abbiamo la possibilità di lancer un esantionaggio quindi e esantionaggio qui nella fission ho fatto un certo combinazione è un certo di esantionaggio per 40% quindi non si scrisse di 40% ma non si scrisse di 40% ma non si scrisse di 40% si scrisse di 40% quindi è un certo che ci mettono quindi sicuramente a quel momento sì credo io sono met walk scientifiche, non arbitriere. Qu'all'indizia da la possibilità de me detectare le doublon da la kif-kif, ila fanno dei montanti en doubl e fargiamo le avicom color differenze. D'accordo? Beh. Beh. Donc, il è giù mi che mi chiede le tasse metà, o di me mansa che rai, e noi siamo in l'exame limitato, di preferenza, ma non è barcha, barcha, per il dettaglio, perché vogliamo vedere alcuni? Beh. Non vedo che vedi che vedi, ma vogliamo vedere un 진eratore che siagano facilement a prodigio. Beh. E questo è un entorno Excel, alcune sezione ci sono alcune sezione con in cui abbiamo faccio il fischio e la organizazione e la logica. Beh. Quando abbiamo avuto un momento per sviluppare la conclusione, abbiamo la conclusione in un formato poigno, un poigno sullevato. Per esempio, una factura non contabilisata. Una factura non contabilisata è stata proposta per la scrittura. Si ha una incidenza a un risultato contabile o una incidenza a un risultato fiscale. Qui si ha una incidenza a un risultato di risultato fiscale, abbiamo la possibilità di ottenere un risultato di risultato fiscale. Abbiamo la possibilità di ottenere un risultato di risultato fiscale. Abbiamo la possibilità di ottenere un risultato di risultato di risultato di risultato fiscale. Inolio, la Commissione è Spazia Inbox. Abbiamo la possibilità di ottenere un risultato di risultato di risultato in risultato di risultato. Inolio, le element in generale in anglomia, indenisive in una incidenza di risultato. Abbiamo un particolare in anglia. Abbiamo看到 l'anglia utente del risultato. Abbiamo la prima del risultato di risultato di risultato di risultato che le risultato di risultato da risultato. Quindi lìt, avanti lìt, c'è lì camp, variazioni n o n-1, variazioni in montante, variazioni in porcentage, e la rappresentazione grafica. Abbiamo un'organizzazione numérique, noi abbiamo un'organizzazione di un'organizzazione di un'organizzazione di un'organizzazione di un'organizzazione di un'organizzazione di un'organizzazione. Abbiamo un'organizzazione di 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 un'organizzazione e non lo vediamo le scritture se è già ridotto le scritture di passazione ok e non lo vediamo e non lo vediamo una cosa più altra la possibilità di fare un giocatore come giustificativo dell'escrizione del test che ho fatto quindi non lo vediamo ogni dossier, ogni fichier per fichier questo quindi io posso aggiungere le seczioni posso aggiungere un fichier ok quindi la numerizzazione che si è già il giustificativo a collecter non è obbligato di avere version papi di avere numerizzazione che si può aggiungere direttamente il giustificativo beh Il nostro corso gratuito è un giornale di passazione di scrittura proposta. Il nostro corso gratuito è un giornale dedicato alla scrittura di passazione di scrittura di passazione di risposta, di risposta, di risposta, di risposta, di risposta, di risposta, di risposta. Il nostro corso gratuito è un giornale di passazione di risposta. Il nostro corso gratuito è un giornale di passazione di risposta. Il nostro corso gratuito è un giornale di passazione di risposta. Il nostro corso gratuito è un giornale di passazione di risposta. Il nostro corso gratuito è un giornale di risposta. Il nostro corso gratuito è un giornale di risposta. Il nostro corso gratuito è un giornale di risposta. Grazie a tutti. Questa è un concetto. beh l'ipolle Iniziamo l'ultimo dossierio, posso lanciare l'update. Una volta l'update, ho una balanza parziale. Questa è la parziale? Questa è la parziale di unicamente i conti che si messevano per un'ecritura. Quindi, abbiamo il momento, i soldi di part, i ajustamenti, i soldi di part, i soldi di finitif. Quindi, abbiamo un balance definitivo, un balance general a priori. Non è anche il balance, il grande livre a priori. Il grande livre a priori. La tenue in conto di ajustamenti. Quindi, abbiamo un balance a priori, quindi, c'è tutto a fenomeno. E noi, abbiamo bisogno di fare un'ecita finanziario a priori. Quando abbiamo, abbiamo cambiato a rapporto al principio. Al principio, abbiamo fatto 3,8 milioni o 7 milioni. Quindi, abbiamo bisogno di considerazione con il 1,530 o 5,5 milioni. Quindi, abbiamo i metti i età finanziari a priori. Quindi, abbiamo i metti i età finanziari a priori. Quindi, abbiamo i metti i età finanziari a priori. Abbiamo i metti i noti i età finanziari. Quindi, abbiamo i metti i età finanziari a priori. Quindi, abbiamo bisogno di dire che il rapporto è dinamico, è instantanale. Può l'arrêtare, sui validazione della ricerca di contabilità. Piahe. Quasi non alcuni, non Third Haha. Quasi non nella versione 5. La versione 5, è che realizzate attraverso il rapporto. N'allora di ottenere. N'allora di ottenere. N'allora di ottenere questa versione. Nel momento di ottenere di una forma continuata. Perchetto. Posso che si vedi una versione Word o invece di ottenere la versione PDF. Non c'è anche la parte del guard, la parte del guard è riuscita. Questo è tutto, inserisco. Ecco. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Ok? Grazie a tutti. 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 important d'accord beh anche il ma l'analyse horizontale n l'analyse de l'évolution du chiffre d'affaire un'accuso chiffre d'affaire car non c'est directement en donne le gestion d'une des factures d'un pointe je vais voir win side di piccola e 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 di comprensione l'actività l'actività la tipologia dell'actività e rmi l'évolution havi e quella fanno delle cose anormali l'analyse è un po' di piccola e di piccola e di piccola non ho bisogno di vedere tutto, ho bisogno solo di avere un luogo di jumelle per riparare le zone che mi piace. Quando mi ha avuto dei utili, mi ha cercato le particolare per avere le flair nelle zone di rischio dove io posso ricolter le informazioni pertinente per il mio rapporto. Questa è l'analytica dei tieri, le tieri dei tieri sono due rubri che sono molto importanti, l'analyse dei fornitori, l'analyse dei clienti. Con un volume, con un volume più piccolo, io devo perdere i rischi. Però, heureusement, la parte analitica mi oriente. Questa è la prima cosa? Il rischio di un credito, non ho bisogno di un credito. Quindi, A, giustifici. Il rischio di un debito. Una, giustifici. Qui ci sono delle ottenioni di terri, la parte delle tieri, 32 e come troppo allo oggi non mi sembra di né non cliente war justifié sono desi avanti bien so sono dei film di disano mali ainsi sui a voi e domani delle cose ah j'ai bisogno de boire un historico da me fornisce riela mohamed da hatta del punto di vuole che una relazione per rapporto ai forniti storico. Inoltre, l'inverse, l'inverse minime, è in termine di soldi. Un soldi non ha mai movimentato, quindi le conseguenze di cliente, le conseguenze della provisione, le fornisseur, le conseguenze di cliente. Questa è un abondante di cliente, un po' di effetti giudiciare. Questa è storica di fornisseur, ma è storica di cliente. L'analitica mi parla di andare in dettagli, come proverbe. Quando lavoriamo con molti dettagli, rischiamo di supercutare un iceberg. È molto normale, quando lavoriamo in dettagli, non mi parla di tutto. Quindi, bisogna guardare, vedere le cose in dettagli. Questa è una visibilità storica. all'inter hook. Un'interno di parte, qui viene dal balanzo agita, la balanzo agita in questo anno. Ne ho un soldo, sono qua un soldi. Questa ho un soldi. E se ho potuto vedere se è un soldi. Qui c'è il soldi dell'exigenza. La salute di costa è che, non mi parla di potenza. se si è un cliente, se si è un cliente, se si è un cliente. Se non si fanno, si fanno un'impossibile. E se fanno un'impossibile al fine, si fanno un'impossibile. Se fanno un'impossibile al fine. Una fine, quattro le settembre, non si fanno. Che cosa fa? Può avere un'interrogazione. E qualcosa di un'altra. Si è un'impossibile, la società ha una politica interna, un recouvrimento al maximo 90 giorni, io posso conoscere anche delle autorità non autorizzate, perché ho trovato delle autorità parecchie. Quindi, queste sono delle anomalie di gestione, in discordanza con il controllo interno della società. D'accordo? Questa è la sua? Questa è la sua? Quindi, siamo a fare le tiere, ma stiamo riuscita con la loro informazione. Questa è la sua? Questa è la sua? Questa è la sua? Non, non, non. Quando abbiamo analisiato, siamo a fare le tiere, quindi siamo a fare le tiere, delle caratteristiche, delle rubriche, abbiamo analisi del soldi intermiede di gestione, che hanno fatto le mar, che hanno fatto le mar, che hanno fatto le RBE, che hanno fatto le valore a aggiungere. In questo modo, abbiamo analisi horizontal, quindi, indexata al numero di affari, analisi delle caratteristiche, o analisi horizontal delle rubriche. In questo modo, abbiamo analisi analitica del numero di affari, son evoluzione, è una evoluzione normale, non è normale, per vedere le causo dei crei e le opportunità di aumentazione. Poi, abbiamo entramato le tiere, 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 Soit 44%. D'accord?